allora camille una toccata e fuga no chi che a perugia per sistemare alcune questioni logistiche per iniziare ad annusare l'odore del pala bartola qui siamo nei nostri uffici ti ha fatto venire voglia di iniziare la stagione questo passaggio a perugia sì sicuramente sì lo vedo come una nuova avventura esperienza primo diciamo che stavo bene in vacanza comunque già subito quando entri vedi palazzetto adesso ufficio e quegli sentimenti ritornano sono sono già a carico è sempre così no uno termina la stagione è stanco voglia di staccare poi però l'odore del del campo no torna torna subito sì sì io credo che tanti giocatori hanno sempre quella cosa che alla fine della stagione sei già un po anche mentalmente stanco di giocare diciamo poi prendi due tre settimane se puoi di vacanze e poi subito ti chiedi come può essere che ancora due settimane fa avevo veramente volevo volevi fare vacanza adesso già sei sei pronto poi di cominciare e tanto tra tra un pochino si si comincerà intanto stai benissimo con questa maglietta ascolta camille parliamo un po del della prossima stagione la squadra ormai è stata delineata tu da fuori da fuori da parte in causa in questo momento fuori ma tra poco da parte in causa che squadra è stata costruita credo molto interessante come dicevo già prima credo che l'anno scorso cia perugia aveva una squadra forte però forse mancava su una o due posizioni un po più di non so stabilità o un po più di potenziale e questo anno a me sembra che che una squadra costruita molto intelligente anche quello spero che poi comunque certo il campo chi giudicherà però secondo me c'è tutto che che abbiamo bisogno senti ci aspetta un'altra stagione lo diciamo ogni anno no chiudiamo la stagione dicendo non ci potrà essere una stagione così compressa la prossima lo sarà se possibile ancora di più si inizierà a ottobre avremo tanti appuntamenti ancora quattro competizioni da giocare per cercare per cercare di vincere questo è chiaramente l'obiettivo che c'è qui a perugia non ti chiedo se hai una preferenza per un obiettivo o per un altro perché so già la risposta sicuramente ti chiedo perugia può competere per tutti gli obiettivi credo che per quello la squadra è fatta lo ripeto è sempre il campo chi giudicherà però anche io spero che i miei compagni di squadra esattamente per quello siamo venuti qui sappiamo bene che ci sono tante partite cose a giocare però credo che se c'è la possibilità ho potenziale di vincere in quattro diciamo diversi tornei lo vuoi vincere tutti non è che ti dici quello proviamo e altri lasciamo stare no non è così e poi vediamo senti taglimi una curiosità è più forte Kamil Rygliski o Jacek Rygliski che è tuo papà un'altra pallavolo dicevamo a microfoni spenti uno schiacciatore ricevitore in un'epoca in cui la pallavolo si sapeva fare un po tutto non c'era questa divisione così estremizzata dei ruoli ma chi è più fuori più forte della famiglia Rygliski spero che mio padre non capisci italiano allora posso essere onesto no no guarda o comunque lui giocava in ancora con paloni diciamo bianchi quello anche io quindi attenzione no no guarda per me sempre è stato certo che che l'idolo mio e mio padre e anche la mamma chi anche giocato anche campione di polonia allora non possiamo dimenticare quello però poi a me diciamo io non voglio mai vedere una partita di miei genitori quando loro hanno giocato perché io in mia testa diciamo quello immagine che loro sono stati più bravi più forti probabilmente non è stato così però a me piace tenere quello immagine senti ma quanto è stato importante adesso torniamo seri avere due genitori comunque due ex giocatori due ex grandi giocatori se non sbaglio tuo papà è stato vice campione d'europa nel 83 così con la nazionale polacca quanto è stato importante per te per farti prendere questa strada della della pallavolo professionistica molto molto importante lo ripeto sempre che io ho iniziato a giocare a pallavolo in lussemburgo imparato la più parte di cose credo guardando la tv e anche in lussemburgo dove il sport e soprattutto pallavolo non non c'è quella mentalità di professionista o il sistema di professionista è incredibile difficile a uscire di quella mentalità di uscire o provare essere un un giocatore buono forte e lì sempre è stato potevo sempre diciamo pallare o discutere con i miei genitori chi chi hanno sempre mi hanno sempre capito capito bene mi hanno supportato quello è stato più più importante mi hanno dato la la via libera si dice così per per prendere la strada che che voglio io e loro hanno mi hanno dato tutto il supporto senti chiudiamo con una speranza no non parliamo di pallavolo perché ancora manca del tempo qui alle nostre spalle c'è c'è la nostra curva per ottobre quando inizierà il campionato speriamo tutti di di rivederla di rivederla così bella piena penso che sia anche no la tua speranza è giocato qua l'avversario ricordo quando ti ho presentato che mi parlavi della prima volta che sono a giocare qua con con Ravenna no è rimasto è rimasto stupito speriamo di averli di nuovo al nostro fianco sì sì tante volte ho detto già qualche che amici o anche campo compagni della squadra che guardate aspettate la partita in perugia contro perugia perché lì è sempre l'atmosfera e soprattutto tifosi sono eh straordinari è qualcosa credo molto diversa di di altri posti e adesso spero che che posso anche io vivere quella atmosfera in palazzetto bene gamil grazie eh ci vediamo presto eh qui dentro il mura del parabarton intanto buon proseguimento di vacanze grazie grazie mille ciao